Ciao a tutti. Tra oggi e domani si celebra il centenario della rivoluzione d'ottobre, che segnò il passaggio dal governo rivoluzionario borghese dei Menshevichi, che a sua volta aveva rovesciato il governo degli zar, al governo proletario di Lenin e dei Bolshevichi. L'obiettivo di questo governo era quello di realizzare il comunismo di stampo marxista tramite una fase di governo proletario provvisorio. In questo video vorrei esporvi quelli che secondo me sono i limiti e i pregi della rivoluzione bolshevica, secondo il mio parere, ma prendete quello che dico con le pinze, perché non sono un esperto specialista nell'argomento? La Russia non è mai stata effettivamente uno stato comunista e ci sono delle differenze tra quello che disse Marx e quello che ha detto e fatto Lenin. Secondo Karl Marx la rivoluzione poteva essere fatta solo e soltanto dopo che la massa degli sfruttati avrebbe compreso qual è secondo lui il problema, cioè il capitalismo. E qual è secondo lui la soluzione, cioè il comunismo. Non solo, bisognava agire solo dopo che il capitalismo sarebbe crollato definitivamente, senza che ci fosse la possibilità che esso si riprendesse. Magari con delle modifiche. Le crisi economiche erano dei sintomi di questo crollo. Non solo Marx non aveva previsto la possibilità che il capitalismo si modificasse ogni volta per evitare di crollare, ma addirittura i bolshevichi non hanno nemmeno agito davanti a una crisi economica, un'apparente possibilità che il capitalismo crollasse per poterlo sostituire col socialismo? Piuttosto hanno agito davanti alla crisi di un governo rivoluzionario borghese. Apparentemente avevano seguito la dialettica marcosista, cioè i mincevichi? Che erano borghesi, avevano rovesciato gli aristocratici, e i bolshevichi proletari avevano rovesciato i mincevichi borghesi. Ma il vero messaggio di Marx era ben altro. Vorrei ricordarvi quello di cui vi ho parlato in altri video. I mincevichi erano quasi tutti massoni o filomassoni, in quanto borghesi. Mentre i proletari erano antimassonici in quanto anticapitalisti e antiborghesi. Come spiegava Marx, la massoneria era il partito della borghesia, il partito comunista era il partito dei proletari. Il compito dei proletari era quello di cacciare i borghesi, cioè il partito comunista doveva sconfiggere la massoneria. Ma questo, ovviamente, i complottisti di destra, o come li chiamo io, i cattomonarco-fascisti, non ve lo direbbero mai. Un altro errore a mio avviso è stato quello di agire durante la Prima Guerra Mondiale. Non solo una guerra civile è insostenibile, non solo sanare una nazione di per sé arretrata è duro per davvero, ma aggiungere anche una guerra mondiale è davvero tremendo. Come si dice, nessuno può combattere una guerra su due fronti. Inoltre, né Marx né Lenin avrebbero potuto, che io sappia, prevedere la fase globalizzata del capitalismo. Il capitalismo se crollerà, dovrebbe crollare dopo la realizzazione della globalizzazione? Oppure fallendo in questo tentativo, o dopo un'ulteriore fase post-global? Voglio precisare che però io non so cosa avrei fatto al posto di Lenin, lasciare lo Stato in mano agli zar o ai Mensheviki non era affatto una bella cosa. Quindi la rivoluzione proletaria si sarebbe dovuta fare dopo il fallimento della globalizzazione. Cioè dopo il fallimento del capitalismo in ogni angolo o del pianeta si sarebbe dovuto agire. Vi dico questo perché all'epoca il resto del mondo fece di tutto per agire contro i rivoluzionari, e questo fu fatto con tutti i tentativi di realizzazione del comunismo, anche con mezzi democratici, come in Venezuela, persino con la Grecia. Il rischio di creare un muro tra te e il mondo capitalista è inevitabile se non rispetti le fasi descritte da Karl Marx. C'è anche la questione spinosa riguardo alla fase capitalista. Cioè secondo Marx la rivoluzione si sarebbe dovuta fare dopo il fallimento del capitalismo? Ciò significa che prima ci deve essere il capitalismo, poi esso deve svilupparsi appieno, e poi deve collassare su se stesso. Da un lato direi che se la massa degli sfruttati ha già raggiunto la coscienza di classe, e se al posto del sistema capitalista si trova a collassare il sistema feudale, perché non attuare la rivoluzione? Questo è stato anche un problema che ha dovuto affrontare Mao in Cina, ma questa è un'altra storia. Il capitalismo crolla dopo avere generato ricchezza, anche se per pochi, anche se ciò è avvenuto alle spese degli sfruttati. Se crollasse il capitalismo gli sfruttati potrebbero punire gli sfruttatori riappropriandosi di ciò che li spetta. Se si facesse la rivoluzione oggi, dato che l'1% della popolazione mondiale possiede quasi tutte le ricchezze e le risorse e gli sfruttati potrebbero riprendersi ciò che è loro. Ma se la Russia e la Cina erano poverissime, come fai ad avere le risorse per retribuire ciascuno secondo i propri bisogni? Soprattutto se la Russia e la Cina sono paesi enormi. In Russia il progetto originario era quello di realizzare una Repubblica dei Soviet, cioè i consigli degli operai, dei contadini e dei soldati sarebbero stati il fondamento dello Stato. Così la Russia sarebbe diventata una democrazia proletaria, ancora rappresentativa e non diretta. Era dittatura del proletariato nel senso che i borghesi erano esclusi dalla rappresentanza politica? O meglio, tutti coloro che in un modo o nell'altro vivono dello sfruttamento altrui, non nel senso che avrebbe dovuto compiere barbarie. Ma in una seconda fase il governo dei Soviet è stato nella pratica esautorato dal governo centrale, divenendo dittatura nel senso moderno del termine. Lenin come uomo politico si è comportato come un centomatrista, cioè ha tentato di fare molte cose previste dal programma marcosista. Come distribuire la terra ai piccoli contadini, nazionalizzare le banche, il settore petrolifero, la grande industria, autogestita dagli stessi lavoratori? Aboli la pena di morte, ma tento di fare troppo, come abolire il denaro, nazionalizzare anche le piccole industrie? Realizzate troppo presto, infatti alcune gli si ritorsero contro, ad esempio l'abolizione del denaro portò alla nascita del contrabbando. Oppure in parte si ritrovò a fare cose che contraddicevano il marcosismo, come togliere il diritto allo sopro agli operai, introdurre lunghi turni di lavoro forzato, vietare la libertà d'espressione, reintrodurre la pena di morte per i controrivoluzionari e attuare la repressione verso i dissidenti. Da sottolineare che Rosa Luxemburg criticò Lenin per avere tolti diritti civili e avere realizzato una dittatura vera e propria e non una democrazia proletaria. La Luxemburg infatti voleva realizzare il comunismo retto da una democrazia proletaria, aveva loggiato infatti le prime tappe socialiste della rivoluzione. Lenin quando ha realizzato la NEP ammise che esse fu un passo indietro nel progresso verso il comunismo. Avrebbe potuto realizzare le cose con gradualità, dopo aver rispettato le fasi del marcosismo. Quindi potrei dire che Lenin ha tentato di realizzare il programma marcosista ma ha commesso degli errori sia prima, sia durante e sia dopo la rivoluzione che hanno portato al fallimento il suo progetto? Che definitivamente sarà abbandonato con il capitalismo di Stato e il totalitarismo di Stalin. Io oserei dire che l'URSS si è crollata già durante il governo di Lenin, non nel 1989. Per alcuni di voi questo mio giudizio può sembrare troppo critico e severo, c'è chi crede che la Russia sia degenerata con Stalin, c'è chi crede che sia degenerata dopo Stalin. Altri dicono che il declino iniziò con la NEP, ma io sostengo che Lenin abbia fatto errori anche prima, non esiste alcuna epoca d'oro del comunismo russo, fu tutto impostato male. Fin dal principio. Per il momento è tutto, mettete un like, iscrivetevi, condividete. Alla prossima!